La Coppa di Nestore è stata portata via dalla sua sede, dalla sovraintendenza. Soprattutto senza comunicazione, cioè noi abbiamo investito molto nella pubblicizzazione e valorizzazione della cultura, del Museo di Villarbus e della Coppa di Nestore in particolare. Ci aspettiamo molte visite in questo ponte che arriveranno dei turisti, abbiamo fatto dei progetti in questa direzione con fondi regionali, lo stesso fondo del Ministero, fondi comunali e quindi chiaramente non abbiamo apprezzato che questo avvenisse senza nessuna comunicazione. Faccio appello al sovraintendente per poter quanto prima riportare la Coppa al suo posto naturale, che è il Museo di Villarbusto, anche perché noi non riusciamo a questo punto a comunicare sui nostri siti che chi viene al museo, evidentemente ha già prenotato la visita, non troverà la Coppa di Nestore. Attualmente c'è un piccolo manifestino dove si dice che in mostra Abbaia, quello l'avete trovato? Sì, noi dipendenti del museo si sono visti arrivare questi trasportatori, che chiaramente sono i proprietari tra virgolette del reperto e nulla hanno potuto eccepire, nulla abbiamo potuto eccepire e loro hanno pensato bene di sostituire la Coppa con questo scritto dove dicono che la Coppa è Abbaia. Ripeto, io ho sempre avuto ottimi rapporti con la sovrintendenza, ho sempre pensato che la collaborazione tra enti sia fondamentale, non ho apprezzato, sono molto amareggiato per quanto è successo, l'auspicio è che il sovrintendente voglia porre il rimedio. Ho già avvisato il ministro dei beni culturali, ho mandato un messaggio, ho provato a contattarlo per dire praticamente che è un momento in cui questo secondo me andava evitato. La vice sindaca ha avuto la reazione diciamo di colei la quale profondo impegno, passione e dedizione per mettere in cantiere questi progetti andando a trovarsi i finanziamenti necessari e poi chiaramente una volta fatto questo lavoro corre il rischio che il turista magari avrebbe notato anche la visita, arriva e non trova il reperto più importante di maggior pregio all'interno del museo. Quindi io credo che sia una reazione comprensibilissima tanto sul lato umano quanto sul lato politico istituzionale.